Allora, ci sono delle parti politiche che discutono su leggi sull'immigrazione, che difendono una parte della Bossifini, che difendono un concetto di cittadinanza. Questo non ha nulla a che fare con il razzismo, perché ci posso dire che devo contenere l'immigrazione, non avere nessun tipo di problema o comunque ritenere assolutamente normale che ci sia chi vive in Italia da vent'anni, è perfettamente integrato, poi magari ha la fortuna di non doversi truccare come noi e quindi è più fortunato di noi. Punto. Sono due cose diverse. Utilizzare il termine razzismo significa imporre ipocritamente un'inibizione all'altra parte per portarla sulle proprie tesi.